ma non è che deve cascare l'acqua ma io hai più là però devi spostare verso Vittorio diciamo perfetto così perfetto alzare un po' buona vi rallentare un po' dovrei andare a trattare questo è pesante se sto spendo mette la cascata come se mette la cascata aspetta ferma va più là va più verso più verso la cascata sotto sì ok ok a posto a posto a posto a posto? aspetta aspetta a posto a posto a posto Grazie.